PT Time, il tema di questa edizione, la numero 105 in corso alla fortezza da basso di Firenze dal 9 al 12 gennaio. Un concetto di tempo che rimbalza tra passato e futuro, come la moda che guarda avanti e trae ispirazione dalla tradizione. Girando per gli stand affollati come non si vedeva da tempo, emerge con forza la direzione che ormai da tempo ha preso il settore. Sostenibilità, responsabilità, rigenerazione e riuso sono le parole chiave che si ritrovano ne sia nei tessuti riciclati che in quelli più pregiati e ricercati. Paese ospite di questa edizione è la Germania, con 17 brand contemporanei. Protagonista della prossima stagione sarà il blazer, il tessuto invece sarà il velluto, ma soprattutto sarà una moda senza genere per affermare la propria personalità anche attraverso abbigliamenti e accessori. In fortezza da basso si mescolano nomi e tendenze, una certezza e il formale disinvolto di Brunello Cucinelli. Stiamo andando verso un mondo elegante, giovane, chic, moderno, contemporaneo, che è tipico quando Edoardo VIII intorno al 1920 disse dopo la guerra e la pandemia dobbiamo tornare a essere eleganti. È un'eleganza giovane, bella, ma qui considerate 30.000 persone vengono, è una sorta di defile all'aperto, quindi speriamo di portarci a casa e che piaccia alle collezioni, che questo è importante, ma la struttura di pitti con questi showroom aperti, tu vieni qui e hai la sensazione di come sarà la moda l'autunno-inverno a venire. Poi i grandi classici, Stefano Ricci, Tombolini, Cruciani e l'iconico jeans Roy Rogers e le novità tutte votate al green, come Rifo, la start-up pratese che lavora su fibre riciclate e la Toscana Killing che conferma l'attenzione per l'ambiente con una novità legata alla tintura sostenibile dei tessuti. La scelta di fare questo brand nasce proprio da un brevetto che è di proprietà, cioè nostro, che elimina al 95% l'uso dell'acqua, quindi l'idea di fare una tintura in capo, perché questa è la nostra caratteristica, cioè il Garment Dye, cioè la tintura in capo, nasce dalla volontà di utilizzare questa tecnologia che si chiama Green Universe Clean Color Tech, che toglie l'acqua dolce quasi completamente dal processo industriale di tintura. Non solo, c'è anche, queste sono certificazioni europee, dell'Unione Europea, c'è anche il 92% in meno di uso dell'energia elettrica, quindi è altamente sostenibile. Spazio anche agli animali con Pitty Pets che si afferma in fiera per la terza stagione e propone accessori e soluzioni innovative e sostenibili come il brand pratese Faliero Sarti. Spazio anche agli animali con Pitty Pettitolo